Allora qui abbiamo le solve, frutto locale qui a Vallata, come questi giorni c'è molto suono, vediamo un po' se riesco a farlo seccare un po' qualche giorno. Le solve è un frutto veramente buono, sembra tipo una nespolana, la più saporita, un sapore peggiormente diverso. Questa è buonissima, sono secche, si mangiano all'inverno, tipo fighi, delle marine, appassolate, è un frutto veramente particolare. Vai vicino! Oggi fa proprio caldo, io la vorrebbero cominciare a seccare in due o tre giorni, tanto il tempo dovrebbe essere un po' di squedo buono, un po' di giorni. fa proprio caldo, ci sono… E' solo… E' un po' che aveva mancato, stavamo, dentro due giorni, ho parlato sui mancati, ma non ci sono delle signore che vendono queste cose. Non lo vede in campagna, se trovo un albero con un po' di solve, così lo raccolgo e li metto a sticcare. Questa è troppo natura, invece al sole si mettono queste non troppo natura così, così si essiccano meglio, ci vorrebbero molti giorni per l'essiccazione. Ok, ci siamo eh!